Buongiorno da FTI Online, avvio difficile questa mattina per i principali mercati azionari europei, in questo momento il nostro Futsimib è in calo dell'1,2% circa a 23.240 punti, toccato un minimo in avvio anche sui 23.130 punti. Sul frontegrafico il ribasso di oggi inizia a destare delle preoccupazioni, notiamo infatti che con i massimi di lunedì scorso a 24.150 punti, l'indice aveva cercato di superare quelli di aprile, ma era stato respinto da quella resistenza, successivamente i prezzi si erano stabilizzati poco al di sopra dei 23.500 punti, ma questa mattina è stato violato il primo dei gap rialzisti lasciati durante la fase crescente dai minimi di luglio, il gap del 16 luglio con una base a 23.392 punti, quindi stamattina siamo scesi abbondantemente al di sotto di quel supporto e ora si configura il rischio di un proseguimento della discesa fino alla base del gap del 10 luglio che si è aperto a 22.337 punti. Notiamo anche che la media mobile a 100 giorni transita a 23.125, quindi la violazione di quei livelli toccati appunto questa mattina comporterebbe un deterioramento del quadro anche di medio termine. Non tutti i titoli questa mattina sono negativi come l'indice, abbiamo ad esempio Maire Technimont che limita i ribassi a un 0,5%, siamo sui 3,09€, 3,10€, nel corso dell'ultima ottava si è venuto a creare un piccolo doppio massimo, come vediamo sul picco del 20 luglio e il picco del 22 luglio allineati sui 3,25€, la presenza di questa figura potrebbe comportare l'avvio di una fase di ripiegamento, ma riteniamo che il trend del titolo che è orientato decisamente a rialzo dai minimi di gennaio possa continuare sulla sua direzione crescente per andare ad intercettare il lato alto di questo canale rialzista che si colloca attualmente intorno ai 3,65€, 3,67€. In termini di media immobili, la media immobili a 100 giorni, quindi quella che identifica la tendenza di medio e lungo termine è praticamente coincidente con la base del canale che abbiamo disegnato, invece quella a 20 giorni, quindi più di breve termine, si mantiene per il momento ancora bene al di sotto dei prezzi, vale infatti 3,02€, se dovessimo scendere al di sotto della media 20 giorni il rischio di un terzo della base del canale ci sarebbe, però rimarremmo sempre in una tendenza di fondo rialzista, quindi se al di sotto di 3,02€ probabilmente sarebbe bene sospendere le attività di acquisto per quello che riguarda il breve, eventuali ulteriori cali sarebbero da considerare un'opportunità per entrare sul titolo a prezzi più interessanti rispetto a quelli attuali. È evidente che in caso invece di rottura immediata di area 3,25, ci sarebbe il segnale di acquisto per tonale ai compratori per il test di 3,65. In linea invece con il mercato questa mattina in testa San Paolo, fortemente cedente, siamo a un meno 3%, quasi, intorno ai 3,42€, in questo caso la media mobile a 20 giorni transita a 3,35€, quindi poco al di sotto dei livelli raggiunti questa mattina, se dovessimo scendere al di sotto della media ci sarebbe il rischio di vedere proseguire il ribasso almeno fino alla 100 giorni che transita a 3,21€, praticamente allineata con la base del gap rialzista del 9 luglio che si trova a 3,22€. Di fatto la frenata che il titolo ha subito dal picco toccato settimana scorsa a 3,65€ per il momento non compromette la tenuta dell'uptrend precedente, un uptrend che come vediamo è data dai minimi del luglio del 2012, resta il fatto che considerando anche la situazione degli indicatori tecnici, ad esempio se andiamo a guardare l'RSI a 14 settimane, quindi un indicatore tarato sul medio termine, riconosciamo sia la presenza di uno sconfinamento in zona di ipercomprato, sia la presenza di una divergenza ribassista, ovvero con l'indicatore che ha già avviato una serie di massimi decrescenti con il titolo invece che continuava a salire. La presenza di una divergenza molto spesso anticipa l'avvio di una fase correttiva di una certa rilevanza e quindi sui prezzi attuali suggeriamo di essere cauti, non andare a comprare sulla debolezza ma attendersi eventualmente invece ulteriori cali che potrebbero andare anche ad interessare i prezzi inferiori ai 3 Euro fino a 2,70-2,80 Euro. Per tornare positivi sul titolo invece servirebbe il superamento del massimo di settimana scorsa a 3,65 Euro, in quel caso possibilità di avanzate tra i 3,95 e i 4 Euro. Ringraziamo per l'attenzione, vi diamo appuntamento per il commento giornaliero di domani a stessa ora, grazie.